Il 26 giugno il teatro riparte a Torre del Greco con un'importante rassegna che comprenderà le principali compagnie della città. In cosa consiste? Un'iniziativa totalmente privata, nata così quasi per gioco con la compagnia di Donna Peppa e la compagnia di Zazà, capitanata da Salvatore Pinto e su Antonio Laprea. Salvatore Pinto che ha in gestione il teatro del Buon Consiglio ha messo a disposizione lo spazio esterno, quindi tutto si farà in esterno e in sicurezza. Consiste di un calendario nato per caso, ripeto per gioco perché siamo amatoriali e noi ci piace giocare a fare il teatro, con svariate compagnie. Inizia Salvatore Pinto con la sua compagnia, poi ci saremo noi Donna Peppa, poi la compagnia di Gianni Pernice, capitanata da Rosalba Pernice, poi anche il teatro club del Fugino Roma e i ragazzi di Gino Roma, poi ci sarà il Gazebo Rosa con Rosa Visciano, Simone Pagano, un giovane molto talentuoso in concerto, anche l'Ina Nappo in concerto, i Bazziarioti e anche post teatro con Silvio Fornacetti. Poi ci sarà anche la danza, una veterana della danza torrese, la signora Alba Bonandi con un unicorno danza. Quindi varie sfaccettature di arte per un pubblico torrese che ha fame. Veramente abbiamo anche noi fame di teatro, perché siamo stati circa un anno e mezzo fermi. Noi per esempio come compagnia siamo bloccati dalla pandemia. La settimana scorsa abbiamo smontato le scene dopo un anno e mezzo dal Don Orione. Quindi abbiamo veramente fame e spero che il pubblico abbia sete di teatro. Com'è stato allestire uno spettacolo nuovamente? Non è stato semplice. Anche perché abbiamo iniziato che eravamo ancora a zona arancione, quindi abbiamo fatto quasi una dad teatrale. Un pochino chi è in presenza al 50%. E anche molto ansiosi. Molto ansiosi perché, sai, avere la mescherina e recitare non è semplice. In alcuni casi stiamo provando anche all'aperto, però mi sembra che le cose vadano meglio e quindi speriamo in un futuro sempre migliore. Una ripartenza anche per il teatro del Buon Consiglio e per tutta la struttura? Nel 2019 Don Ciro Sorrentino mi ha affidato la gestione del teatro del Buon Consiglio, che ho lasciato un po', diciamo, negli ultimi anni assieme, essendo una bella struttura, però era abbastanza abbandonata. Infatti io a novembre, dicembre 2019 l'ho rimesso a nuovo, mettendo anche delle poltroncine. È diventata una vera e propria sala teatrale, però poi la pandemia ci ha bloccato in tutti i nostri progetti che volevamo realizzare, anche per dare una mano alla mensa dei poveri che Don Ciro possiede all'interno del santuario del Buon Consiglio. Quindi il mio obiettivo era quello di aiutare comunque il santuario, incassando soldi proprio per dargli beneficenza per la mensa dei poveri. Fortunatamente dopo questa pandemia abbiamo la possibilità di fare questa rasse inestiva e quindi tutto quello che riuscirò ad incassare io lo devolverò a loro. Quindi non solo un aiuto per i tanti teatranti, tanti artisti che sono rimasti fermi, ma anche per l'intero settore degli eventi e della beneficenza che è rimasto bloccato. Eh sì, perché comunque insieme a noi amatoriali, anche i professionisti, anche chi faceva questo per beneficenza è rimasto bloccato da 14 mesi. Quindi un'occasione per ripartire noi, perché come diceva anche l'amico Antonello, abbiamo fame di teatro perché stare fermi 14 mesi non è stato facile. Per le compagnie amatoriali comunque hanno dei costi da gestire, di gestione, sedi da pagare, affitti vari, quindi diamo una mano a tutti per ripartire. Infatti abbiamo fatto dei prezzi veramente molto modici e poi anche per fare un po' di beneficenza, visto che sono 14 mesi che manco quello si poteva fare più.